Materiale tessile e foglie di canna da zucchero, un rimedio empirico, una prima barriera che gli abitanti di Pondesni alle Mauritius stanno allestendo contro gli sversamenti della petroliera Wakashio, di proprietà di una compagnia giapponese ma battente bandiera panamense che si è incagliata nei loro mari con 4.000 tonnellate di petrolio a bordo. La nave corre adesso il rischio di spezzarsi in due, le squadre di intervento sono riuscite a bloccare temporaneamente la fuoriuscita degli oli pesanti. La nostra posizione è il risultato della nostra dipendenza dal petrolio e questo petrolio tra l'altro non andava nemmeno alle Mauritius, andava in Brasile e dalla Cina e adesso le persone che devono occuparsene sono africani, mauriziani. Giovedì scorso le autorità mauriziane hanno annunciato la perdita di petrolio dallo scafo inclinato della petroliera. Più di 1.000 delle 4.000 tonnellate di carburante trasportate dall'Auacascio si sono già riversate in mare, ha detto Akiko Ono, vicepresidente della compagnia che gestiva la nave. Il primo ministro mauriziano ha dichiarato lo stato di emergenza ambientale.